Siamo coloro che vogliono ridare la speranza a questa comunità e a questo Paese. La speranza! A cinque anni di distanza noi possiamo dire che ci presentiamo di fronte agli elettori nella consapevolezza che la nostra proposta di governo ha dimostrato forza, credibilità, continuità. Andiamo senza divisioni, abbiamo i candidati migliori, abbiamo le idee migliori, ma abbiamo soprattutto la consapevolezza che nei prossimi cinque anni l'elenco delle cose che avremo fatto sarà superiore all'elenco delle cose che abbiamo detto oggi. Perché? Perché noi non abbiamo paura del futuro. Il futuro è lì che ci aspetta. Andiamo a costruirlo in nome e per conto del Partito Democratico.